Nicolò Margagliotti con una da doppietta e Cardinale regalano il derby al Cupello decisivo un episodio da Moviola a spianare la strada verso la vittoria del Rosso Blu e a prolungare il momento del Vasto Marina. Andiamo per ordine nei locali esordio in panchina per mister Roberto Antonaci che ha sostituito Borrelli esonerato dopo quattro sconfitte consecutive. I padroni di casa scendono in campo con un 4-4-2 assenti Letto e Benedetti parte dal primo Luciano Galie rientrato in settimana in squadra. Nei Rosso Blu che vengono da tre risultati utili di fila Carlucci schiera il solito 3-5-2. I canarini partono forte al settimo De Vizia tenta un pallonetto dalla distanza Di Vincenzo alza sopra la traversa. Al quindicesimo gli ospiti vanno in vantaggio ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al ventesimo occasionissima per il Cupello con Niccolò Margagliotti si salvano i padroni di casa. Al ventottesimo ancora pericolosa la formazione di Carlucci pallone che attraversa tutta l'area e Felice per poco non trova la deviazione vincente sul secondo palo. Al trentunesimo il vantaggio per i Cupellesi si materializza con un colpo di testa di Cardinale che batte un non incolpevole Galante. Al trentaseiesimo arriva la risposta dei locali Fieroni la piazza sul palo lontano Di Vincenzo salva con un colpo di Reni. La palla arriva De Vizia che colpisce di testa su conclusione in acrobazia di un compagno. Si salva ancora il portiere ospite. Si va a riposo con il vantaggio di misura del Cupello. Con le immagini di Max D'Addario passiamo la ripresa. Subito pericolosi Rosso-Blu al primo con un colpo di testa di Conti fa buona guardia Galante. Al nono minuto il Cupello raddoppia errore grossolano di Galante che si fa sottrarre la sfera da Nicolò Margagliotti che ringrazia e sigla il 2-0. Neanche il tempo di esultare passano meno di due minuti e Fieroni accorcia le distanze con un tocco morbido con cui supera Di Vincenzo 2-1. I padroni di casa ci credono e al quindicesimo trovano il pari con De Vizia che fulmina l'estremo ospite. Bravo il direttore di gara a far giocare dopo presunto fallo su Fieroni. Al 25esimo il Cupello si procura un penalty per un dubbio contatto in area di rigore del Vasto Marina. Questo l'episodio da Moviola rallenti. Sul dischetto va Nicolò Margagliotti che sigla il 3-2 e la sua doppietta personale. Al 34esimo contropiede micidale dei padroni di casa che costa l'espulsione a Sateo per fallo su De Vizia. Rosso-Blu in 10 a 10 minuti dalla termine più recupero. Da qui a fine gara non succede altro il Cupello supera 3-2 il Vasto Marina e condanna i locali alla quinta sconfitta in altrettante gare. Vista che c'è rammarico per com'è finita la partita, buona reazione dei suoi ragazzi, poi un rigore battagliato alle gambe. Da una parte sono contento perché i ragazzi hanno reagito e hanno cercato di mettere qualcosa che avevamo provato in settimana. Purtroppo c'è poco tempo, poi vuoi le assenze di gente esperta e vuoi la squadra imbottita di ragazzini, purtroppo la lunga l'inesperienza la paghi. Abbiamo fatto una discreta partita anche se abbiamo lasciato in mano al pallino al Cupello che sapevamo essere una buona squadra. Poi abbiamo preso dei gol impossibili, cioè ripeto un tiro e mezzo in porta abbiamo preso tre gol, tra il rigore che non so da dove è uscito quel rigore, perché palla sta uscendo fuori, si è tuffato che non è arrivato sulla palla, ha fischiato il rigore, non lo so. E a noi una palla che ha un centimetro sull'espulsione loro, un centimetro fuori dall'aria. Purtroppo è da anni che ne parliamo ma il livello è quello e giustamente il livello degli arbitri è anche quello, quindi bisogna accettarlo. Certo, dispiace perché nella situazione che stiamo è un peccato buttare via una partita così in casa dopo aver giocato discretamente, insomma non dico che strameritavamo la vittoria ma certo neanche la sconfitta. Mister Carlucci, partita combattuta fino alla fine, poi un episodio d'Ameu Viola vi ha regalato i tre punti. Sì, però di questa partita salvo solo il risultato, non mi è piaciuto l'atteggiamento, specialmente dopo lo 0-2 per noi, in cinque minuti abbiamo subito due gol, anzi in quel momento l'avversario stava andando meglio di noi, poi siamo riusciti a trovare questo rigore per il gol del 3-2. Però ripeto, non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra specialmente quando è andata in vantaggio, perché non può una squadra 0-2 farsi rimontare due gol, quindi l'atteggiamento in quel momento non mi è piaciuto, quindi testa martedì perché mercoledì abbiamo un altro recupero. Però ripeto, mi lascia un po' l'amaro in bocca, salvo solo il risultato perché l'atteggiamento della squadra, gliel'ho detto, non mi è piaciuto per niente. È comunque un momento positivo per la sua squadra, quattro risultati utili consecutivi. Sì, sì, anche se precedentemente avevamo fatto tre partite in casa perché è saltata la trasferta di penne che faremo mercoledì. Niente, andiamo avanti, un altro tassello per la nostra salvezza.